sapete che cos'è questo no in calabria non è soltanto un tamburello questo qui questo è la festa il giorno di festa il matrimonio l'allegria la tarantella la nascita i ricordi le storie e le persone dietro questo che il mio personale c'è ce n'è una in particolare che vi voglio presentare ecco qua no 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 Grazie a tutti. 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 Se ce ne mette parecchio, Morsetto, no? Ah, sì. E poi la pelle di... che apre... se no, non c'è di macchinare io, per mettere la pelle... qua... qua, prima di mettere qua, prima di tagliarla... ci cuccio... ci cuccio... ci metto... ci metto... ci metto... ci metto 4-5 litri... ci metto... Grazie per la visione!